offerte lavoro viceo compagnia assicurativa circa verbagna impiegato o impiegata commerciale con diploma di scuola superiore laurea in materie economiche umanistiche richiesto ottimo uso del pc si offre rapporto di lavoro autonomo con partita iva studio professionale a domodossola cerca impiegato impiegata contabile con diploma in ragioneria o con qualifica in materia requisiti ottimo uso del pc preferibile esperienza con nozione di contabilità semplificata si offre tirocinio interessati a queste offerte residenti e o domiciliati nel verbano cusi ossola dovranno telefonare o recarsi personalmente presso la sede del centro per l'impiego della propria zona di residenza dove potranno autocandidarsi per ulteriori informazioni potete consultare il sito internet www.lavorovco.it dalla svizzera canton vallese si cercano receptionist alle ueckerbad con conoscenza di tedesco inglese francese italiano impiegato o impiegata a visp con ottimo tedesco scritto e parlato aiuto idraulico a visp con conoscenza del tedesco addetto alla monotenzione stradale nella zona di briga sempre richiesta la conoscenza del tedesco per candidarsi a posizioni lavorative nel canton vallese oltre alla conoscenza della lingua tedesca il possesso delle qualifiche richieste è necessaria l'iscrizione ai centri per l'impiego del viceo per il dettaglio dell'offerta per il canton vallese rivolgersi agli uffici del centro per l'impiego di domodossola il lunedì dalle 14 e 30 alle 16 e 30 dal 4 giugno al 4 luglio giovani dai 18 ai 29 anni interessati a svolgere un tirocinio di sei mesi con borsa di 500 euro mensili possono candidarsi per partecipare alle botteghe di mestiere il programma di apprendistato per professioni a vocazione artigianale tutte le informazioni su www.italialavoro.it slash anva oppure ai centri per l'impiego della provincia a domenica domodossola e verbagna anche inviando una mail a cpi.omegna.provincia.verbagna.it la referente provinciale dello sportello EURES volto a facilitare la libera circolazione dei lavoratori in Europa la mattina del prossimo 13 di giugno aderendo all'iniziativa EURES porte aperte sarà a disposizione per far conoscere questo servizio che offre opportunità di incontro tra offerta e domande lavorative nei diversi stati europei per chi è interessato l'appuntamento è dalle 9.30 alle 12.30 presso l'ufficio servizio aziende a domodossola in corso ferraris per informazioni 0323 495 0674 o agli indirizzi email